Buongiorno a tutti, un paio di giorni fa mi è capito di vedere su Amazon Prime i Cassa Mortari sotto anche lo stimolo di un certo tam-tam mediatico sulla brillantezza di una commedia divertente con un cast di tutto rispetto appunto che spazia da Massimo Ghini a Gianmarco Tognazzi a Luca Ucone, a Sonia Bergamasco, a Piero Pelù come partecipazione, una partecipazione straordinaria potremmo dire quindi un film che per la regia di Claudia Mendola è stato anche sollevato a livello di pubblicità di un certo credito mediatico e quindi anche sul suggerimento del mio amico Pier Paolo ho deciso appunto sabato sera di vedere questa pellicola forzando anche un po' la mano a mia moglie che magari avrebbe dovuto vedere qualche altra cosa però diciamo le ho detto, vediamo questo, ne ho letto bene dovrebbe essere un film diciamo leggero appunto che non ha grossi, una commedia, niente di particolarmente impegnativo nella seguire una storia magari un po' elaborata per stare una serata rilassati e in allegria ho visto questa pellicola che è iniziata anche discretamente bene con un intreccio, con temi sociali diciamo anche tratteggiati con una leggerezza con un movimento diciamo comico ah tra l'altro c'è anche Edoardo Leo con una piccola parte all'inizio Edoardo Leo che io apprezzo o magari ne parlo di questo mio apprezzamento per Leo e qui diciamo inizialmente mi sembrava una storia interessante poi gradatamente nell'evoluzione anche dell'intreccio delle dinamiche tra i personaggi e oggi onestamente ho sempre fatto più fatica a reggere l'attenzione verso la storia principale quello che poi si andava un po' così costruendo senza trovare quello che cercavo ossia la risata la risata mi è sembrata particolarmente difficile nell'essere trovata nonostante appunto poi ho letto anche altri commenti ci siamo ammazzati da risate ridere dall'inizio alla fine del film io onestamente ho avuto molta difficoltà e purtroppo questo desiderio tra l'altro di finire di vedere il film che appunto poi alla fine voglio vedere come finisce perché non mi accontento di di attendere diciamo di troncare un film in genere raramente tronco il film però vi dirò un altro film che più alla fine non l'ho fatta più l'ho smesso e quindi questa cosa però poi alla fine ha portato la conclusione della pellicola che veramente non mi è piaciuta per niente ha messo la ciliegina su una torta che reputavo indigesta nel senso una ciliegina è indigesta di una torta indigestalo quindi diciamo si è completato bene nel giudizio complessivo quindi un finale anche molto tirato molto poco poco realistico poco poco appetibile secondo me con una storia già strampalata di suo e questo come dicevo mi ha confermato una opinione che già avevo nei confronti di Claudia Mendola adesso io ho rispetto in genere per l'attività artistica con tanti genitori che hanno dato tantissimo entrambi nel mondo del cinema soprattutto del doppiaggio quindi diciamo tanto di cappello però onestamente la carriera di Claudia Mendola mi lascia un po' perplesso e anche l'attività recente negli ultimi dieci anni come regista cioè l'avevo già avuto modo di vedere la mossa del Pinguino pure lì con una grossa aspettativa con una grossa carica lì c'era Fantastichini c'era Richie Memphis c'era lo stesso Leo quindi con un desiderio di trovare una commedia che potesse far ridere eppure lì alla fine la storia lasciava un po' il tempo che trovava un qualcosa di già visto cioè non c'era nulla di grandemente interessante per poter seguire la storia e facendo una riflessione ci ho pensato e detto ma alla fin dei conti ma potrebbe tornare a fare solo l'attore Claudia Mendola cioè un regista lo facesse fare a qualcun altro che magari è più capace di lui però effettivamente poi ho ragionato ma poi neanche come attore non è che abbia mai brillato tantissimo ha fatto tanti film e ho cercato di ripercorrere un po' la carriera di Claudia Mendola che ha la sua collocazione anche con un certo successo diciamo negli anni 80 ha avuto la sua formazione di maturazione cinematografica vicino a pellicole di Vanzina pensiamo a Vacanze di Natale il primo, il mitico diciamo Vacanze in America poi ne ha fatto pure un altro dove faceva Il carrozziere che andava a seguire non mi ricordo come si chiama comunque sempre uno di questi film anni 80 in cui faceva il bel Piacione che andava in qualche modo a rincorrere e un po' era anche rincorso da ragazze molto belle o più o meno della sua collocazione socio-economica faceva sempre un po' il borgataro sempre un po' il figlio di quella borgata romana in cui probabilmente ci si trovava un elemento non è che potesse avere troppa, nel fare un po' il coatto troppa difficoltà è molto ruspante molto sanguigno anche nella sua verba normale quindi quando lo vediamo in televisione non penso che reciti troppo quindi questi film che lo hanno contraddistinto contraddistinto caratterizzandolo appunto negli anni 80 poi tra la fine degli anni 80 agli inizi degli anni 90 ha avuto dei film un po' più impegnati con anche registi un po' più pensiamo a Marco Risi pensiamo a Righi Tognazzi con appunto Soldati 365 giorni all'alba Ultras Mary per sempre quindi con pellicole che un po' potessero offrire un qualcosa sempre i film corali quindi diciamo in cui magari era il primus interpares in cui era il primo tra gli attori però diciamo che poi era contornato da altri personaggi che in qualche modo poi andavano a costruire insieme a lui la storia negli anni 90 ha continuato un po' così a fare queste pellicole mi ricordo i mitici colpo coba mi ha l'ho trovato molto carino anche se appunto lì è sempre i Vanzina con Ricky Memphis con Monica Bellucci che un po' scimmiottava i soliti ignoti in qualche modo facendo anche delle metacitazioni di Mission Impossible che in realtà poi imitava top capito si è collocato con queste commedie un po' leggeri che in qualche modo tra i Vanzina e qualche altra cosa riuscivano a fare a girare far girare la ruola negli anni 2000 ha avuto la fortuna di partecipare a i Cesaroni una serie fortunatissima con seguiti anche qui che aveva un po' sempre lo stesso ruolo nel senso che aveva sempre il ruolo della la Garbatella in cui faceva ormai il padre di famiglia che diciamo aveva messo un po' la testa a posto ma fino a un certo punto con problemi generazionali era un po' la versione un po' più ruspante del medico in famiglia per capirci nel senso che diciamo se dall'altra parte sulla corazzata Rai c'era una cosa un po' sempre molto leggera ma un po' più seriosa per alcune modalità di gestione di esecuzione era un medico che aveva una tua attitudine professionale dall'altra parte abbiamo quest'oste col fratello che in qualche modo vanno un po' allo sbrago e cercano un po' di rimettere i cocci delle varie situazioni e per non parlare del ritorno del monnezza eviterei di eviterei anche lì anche perché lì c'è il problema di Carlo Vanzina e anche Enrico che fanno un po' i riferimenti ai film del padre di Steno pensiamo al secondo del febbre da cavallo che è inguardabile e quindi anche il ritorno del monnezza non l'ho visto il ritorno del monnezza mi è bastato febbre da cavallo e il 2 la mandragata per capire un po' su che binari stavamo andando e ho evitato proprio di vederlo qui diciamo che la carriera di di Claudia Mendola è stata più di bassi che di alti con dei momenti di più interesse appunto pensiamo più l'attività televisiva con partecipazione a a trasmissioni a camei a varie a varie realtà un po' spot che lo hanno contraddistinto per il bello impossibile fino a un certo punto della del cia televisione italiana della romanità declinata diciamo un po' inflazionata diciamo che questi personaggi diciamo ce ne stanno a bezeffe a Roma quindi diciamo deve un po' sgomitare però con il nome che c'ha diciamo in qualche modo riesce ad affermarsi ha avuto la fortuna di però onestamente come regista mi lascia molto molto perplesso e il problema dell'essere perplesso appunto che non sempre chi è bravo a fare l'attore e bisogna vedere pure se sei bravo a fare l'attore riesce a fare il regista io penso ad esempio che Alberto Sordi che io stimavo tantissimo che diciamo nell'attività attoriale era bravissimo però quando faceva il regista soprattutto il regista di se stesso diciamo lì un po' zoppicava quindi i film diciamo se hai iniziato a fare il regista a partire alla metà degli anni 60 i film che ha fatto dopo i migliori erano solamente quelli in cui faceva il regista a cui sia Marchese del Grillo il Medico della Mutua Terzilli il Borghese Piccolo Piccolo quindi quei film con Magni pensiamo appunto all'anno del Signore quindi diciamo fare il regista non sempre è una cioè è un'arte bisogna saperlo fare non è che ti metti a fare il regista così anche visto che hai fatto 50 film non è sempre così e questa cosa dicevo la ritroviamo anche in altri film che mi sono piaciuti veramente poco degli ultimi anni si parla tanto della crisi del cinema italiano si parla tanto della l'improvvisazione allora abbiamo avuto vari filoni alla fine della commedia italiana la commedia italiana è finita sostanzialmente poi quella classica negli anni 70 primi anni 80 quindi con la fine delle commedie dirette da Monicelli da Arisi appunto finita la realtà dei Manfredi dei Tognazzi dei Sordi dei Gasman che in qualche modo poi magari hanno avuto altre esperienze un po' più drammatiche però diciamo quella era il momento e nel frattempo si andavano a costruire altri personaggi altri autori pensiamo a Verdone pensiamo a Benigni pensiamo a Troisi poi dopo negli anni 90 sono arrivati Aldo, Genne e Giacomo sono arrivati Pieraccioni quindi tutta questa queste correnti che si vanno un po' a sovrapporre però poi alla fine molte volte ci troviamo di fronte a dei dischi rotti delle realtà un po' che si ripetono Pieraccioni a parte i primi tre firma poi sempre gli stessi Verdone pure grosso modo e su Verdone ne ho parlato già in altri video a me Verdone piace gli anni 80 poi dopo mi lascia molto perplesso molti film sì qualche viaggio di nozze sì carino però poi alla fine sempre gli stessi sempre gli stessi personaggi e paradossalmente come ho detto nello specifico video mi è piaciuto molto Vita da Carlo Vita da Carlo in cui fa un po' anche un'analisi un bilancio si ride di se stesso e fa un po' anche il bilancio di se stesso mentre un film che proprio non ho sopportato si vive una volta sola del 2021 un film veramente veramente noioso veramente veramente noioso in cui tra l'altro nonostante il buon cast Papaleo Tortora che c'era La Foglia Foglietta cioè un film veramente scialbo veramente se uno pensa che Anna Foglietta ha fatto film come Perfetti Sconosciuti Perfetti Sconosciuti in cui abbiamo elementi come Edoardo Leo e quindi abbiamo che poi alla fine vengono gestiti da altri da altri registi che un po' secondo me li lasciano sotto una cappa e qui arriviamo a Edoardo Leo allora io come voi sapete ho fatto anche un video apposito e se non l'avete visto il trittico di Smetto Quando Voglio Smetto Quando Voglio penso sia le tre commedie insieme il primo esilarante il secondo bene il terzo ancora meglio e di Sibilia che secondo me sono veramente di capolavori insieme a Sibilia insieme a Genovese li trovo i registi gli autori di grande valore del cinema italiano che ci sono in questi anni nonostante Sibilia poi produca poco perché poi faccia pochi film però sicuramente da tenere da tenere da tenere in evidenza rispetto ad altri appunto che poi Edoardo Leo pensiamo a quando lavora con Massimiliano Bruno adesso Massimiliano Bruno apro un'altra parentesi Massimiliano Bruno grande attore grande anche autore però sulla regina negli ultimi film mi ha lasciato un po' perplesso nel senso che c'era non ci resta che il crimine del 2019 l'ho visto al cinema e mi era piaciucchiato cioè carino carino con Gasman Giallini sempre Gianmarco Tognazzi un film gradevole gradevole non l'ho disprezzato il secondo ritorno al crimine dell'anno scorso sarà pure che c'è stato il covid sarà che ci sono state tante altre modifiche anche nella storia perché hanno dovuto cambiare la storia perché dovevano andare a Monte Carlo non ci sono andati quindi onestamente mi è sembrato molto tirato un film veramente brutto veramente per tanto è che adesso è uscito c'era una volta il crimine e io non andrò a vederlo perché già non mi è piaciuto il secondo figuriamoci il terzo quindi diciamo non proprio non mazzardo a vederlo non voglio spendere soldi non voglio non voglio perdere tempo a vedere film ma che appunto se già il secondo non mi diceva molto il terzo proprio e quindi anche qui mi sembra come si voglia tirare dei film che boh non lo so mancanza di di sceneggiatura penso di sì perché quello è il problema sostanzialmente perché poi se gli attori sono sempre gli stessi che con alcuni recitano molto bene con altri recitano malino allora non è un problema di attore è il problema di chi li dirige e delle storie che gli vengono fornite quindi c'è anche una mancanza di un problema nella possibilità di scegliere dei copioni perché poi appunto Gianmarco Tognazzi che ha fatto dei film secondo me molto belli anche poco valorizzati pensiamo all'Onorevole Onorevole è stato un film molto bello nessuno ricordo di chi è regista poi ne ha fatto un altro sempre in cui facevo sfigato in cui facevo tipo una rapina che è tipo rapina un alimentare quindi diciamo ci sono delle pellicole in cui determinati attori che hanno delle grandi performance pensiamo appunto a Edoardo Leo che tra l'altro ha fatto anche regista recentemente beh mi è piaciuto grande capacità grande anche versatilità appunto diretto da Genovese diretto da diciamo bravo bravo anche Tognazzi anche Giallini anche diciamo veramente la foglietta quindi degli elementi di grande interesse appunto poi anche lo stesso nel stesso film appunto che dicevo dei Cassa Mortari abbiamo la Ocone Lucia Ocone bravissima in altre circostanze e qui l'ho trovata un po' spenta lo stesso Chini Chini che ha avuto una sua parabola ha fatto anche i film con Vanzina che secondo me sono inguardabili tra l'altro ho visto alcuni film Natale a 5 Stelle 2018 di Marco Risi mi è dispiaciuto Marco Risi non merita un film del genere non so perché ha fatto un film bruttissimo una noia a mezz'ora ho smesso non l'ho finito di vedere un film che mi ha annoiato assolutamente pure lì con Chini con Richie Memphis lì c'era Martina Stella come recitazione lasciamo perdere però diciamo che era un film che partiva brillante ma poi veramente si è spento subito quindi diciamo Massimo Chini lì l'ho visto e poi c'era un altro film che l'ho visto Agenzia dei Bugiardi di Il Wolfanco De Biasi del 2019 ecco su quello permettetemi un problema secondo me grande del cinema degli ultimi tempi è fare i remake i rifacimenti dei film francesi allora io adesso mi rendo conto che ci sono dei problemi nel senso che se tu compri i diritti di una storia di un film straniero la rifai costa meno io sono d'accordo però è difficile adesso dice col fatto che non vediamo i film francesi quindi per noi è un film nuovo io ho visto quel film l'Agenzia dei Bugiardi mi ha lasciato un po' perplesso lì con Ruffini con Lamastronardi un po' stantio un po' stantio quindi diciamo boh non mi è piaciuto molto poi ho visto dopo qualche giorno hanno fatto Alibi.com che era l'originale francese nel senso che mi è piaciuto di più quindi ho detto ma è possibile che l'Agenzia dei Bugiardi con la Signoris con Calabresi cioè un cast importante di persone autorevoli di attori che fanno anche ridere poi ci troviamo di fronte a delle situazioni che lasciano un po' per me mi lasciano un po' perplesso quindi diciamo io mi farei un invito ai produttori agli autori scrivete storie voi originali cioè mettetevi mettetevi fate come Sibilia Sibilia fa un film ogni cinque anni però il film è bello cioè il film è costruito bene c'è un intreccio interessante studiate cioè se potete prendere spunto che appunto Sibilia la trilogia ti smetto quando voglio poi ha depredato tanti altri soggetti tante altre realtà del cinema americano quindi diciamo sul discorso di prendere altri motivi altri elementi pensiamo a Tarantino come ha derubato il cinema un po' anche quello trash anni settanta italiano western anni sessanta quindi c'è un elemento anche di ispirazione però poi alla fine metteteci il vostro perché sennò vengono delle cose che mi lasciano veramente veramente perplesso anche l'idea l'unica cosa simpatica del film I Cassa Mortari è la citazione del film Totò Peppine fuori legge che c'è un rumore lì del Ponte dei Rospi che penso che è una citazione che ho riconosciuto io e altri tre in tutto il mondo nel senso forse lo stesso solo Amendola che l'ha fatta e altri tre o quattro tra cui me perché altrimenti però non si capisce perché sennò altra gente non lo capisce però quello l'ho apprezzato messo pure male in un contesto che non ci azzeccava niente però diciamo c'era un'idea che poteva essere premiata una cosa bella nel film è quella citazione a Totò Peppine fuori legge se no veramente mi ha lasciato un film perplessi in cui appunto ci troviamo di fronte a una ripetizione trito e ritrito delle corna e dello scemo e della ruffone e del cretino veramente questi film dove appunto abbiamo una ripetizione continua forse siamo stati abituati male io non è che li vedo molto spesso dei cinepanettoni cinepanettoni che ci ripetevano sempre la stessa cosa del cornuto della donna dei facili costume dell'imbroglione delle cose e quindi continuiamo a ripetere sempre le stesse cose con battute trite e ritrite con situazioni trite e ritrite che onestamente mi lasciano un po' perplesso quindi diciamo che vi devo dire appunto i film che volevo citare grossomodo scusate li ho citati un po' tutti in cui appunto la cosa che mi dispiace è che stessi attori che vengono proposti in realtà diverse e dei film sono veramente brillanti ripeto pensiamo a perfetti sconosciuti pensiamo appunto ai film di Genovese perfetti sconosciuti The Place immaturi sia il primo che il secondo dei film corali in cui c'è una veramente marea di gente attori di estrazioni diverse di esperienze diverse chi viene dalla televisione chi viene dal teatro chi viene dal cinema chi viene dal doppiaggio quindi vengono da realtà completamente diverse ma che riescono ben oliati ben diretti a costruire una realtà molto più molto più armonica altri film in cui boh non lo so mi lasciano veramente veramente perplesso quindi su questo io punterei boh non lo so effettivamente poi con il mercato dell'home video diciamo delle piattaforme ci dovrebbe essere anche una maggiore fruizione però mi sembra che molto spesso andiamo a ribasso e lo dico lo dico lo dico io che recentemente ho fatto per esempio un video su lockdown all'italiana che è stato ucciso come fin due anni fa è stato definito uno schifo completo in realtà lockdown all'italiana nonostante tutti i limiti che possa avere l'ho trovato sicuramente migliore rispetto a tutti quelli che ho elencato migliore dei cassamortari migliore si vive una volta sola l'agenzia dei bugiardini a 5 stelle i film non ci resta che il crimine ritorna al crimine quindi allora anche e forse lì c'era la mano di Vanzina che a forza di fare i cinepanettoni forse alla fine era cavace a fare solo quello e in qualche modo stava una spanna sopra agli altri ai Wolfangando e Biase agli altri che in qualche modo a Massimiliano Bruno che in qualche modo hanno stanno cavalcando in qualche modo un filone e non sempre riescono bene a portarla avanti quindi diciamo il mio più che una critica fine a se stessa vuole essere uno stimolo uno stimolo a impegnare meglio soprattutto la scrittura dei film perché io non sono capace io non saprei che è capace però faccio il mestiere faccio un'altra cosa quindi da questo sono esentato però dico la soggetto sceneggiatura curiamoli meglio e poi la direzione del film perché poi alla fine non è che si può sempre appunto dire sei bravo a fare l'attore allora fai pure il regista non è sempre così e soprattutto anche una dinamica del montaggio una dinamica che non è ve lo devo insegnare io però come diceva Griffith il cinema è il vento attraverso i rami degli alberi quindi anche un qualcosa di poetico di saper avere una dinamicità appunto prendete esempio da Sibiglia Sibiglia fa dei film veramente veramente fatti bene in cui si dosa bene anche il colore pensiamo colore di smetto quando voglio è stupendo però una dinamica anche della scelta delle musiche del montaggio dell'attività di incollare lo spettatore di fronte a delle storie sempre in movimento in cui devi stare attento non ci sono tempi morti perché comunque sei sempre teso a capire come va la storia con i cassa mortali a un certo punto io stavo tirando i reni mi imbarca speriamo che finisca presto quanto manca perché non ne la faccio più ah un altro film da ultimo questi fantasmi di e con Cristian De Sica che ho visto recentemente anche quello con con Gianmarco Tognazzi e con Bucci Rosso Carlo Bucci Rosso tra l'altro Carlo Bucci Rosso l'ho visto a teatro anni fa l'ho trovato bravissimo cioè Carlo Bucci Rosso al cinema non mi piace per niente ha fatto film quelli con Salemme con Banzina cioè film orribili or non si possono guardare a teatro e tutta un'altra cosa Bucci Rosso io ti do un consiglio a Carlo Bucci Rosso fai solo il teatro cioè un consiglio proprio pratico i film cioè o scegli ma sempre fa il napoletano scemo il napoletano mezzo diciamo il come si dice l'innaffiatore innaffiato che vuol fare furbo ma poi lo fregano sempre a lui quindi guardate ripeto questi fantasmi una cosa del jazz si chiama di Christian De Sica un film che non si può guardare anche perché quello lì l'ho visto mezzo l'ho lasciato perdita dico non gliela posso fare non gliela posso fare anche peggio di Cassa Mortale a me di Cassa Mortale sono riuscito ad arrivare alla fine con quello neanche quello il cinema merita merita molto molto di più il cinema italiano merita molto molto di più quindi magari meno film ma fatti meglio scrivete scrivete sceneggiature studiate imitate ma imitate bene non imitate così alla Carlona perché sennò veramente vabbè mi piace iscrivetevi al canale alla prossima ciao